Musica Sana Consilina, scuole aperte, Cavallone chiarisce la situazione, atti conseguenziali alle decisioni, la risposta alla minoranza e il passaggio sugli screening. Scuola e screening, controlli sulla popolazione scolastica in quattro comuni, pochi positivi, da oggi tutti in classe. Regione Campania, sospensione attività assistenziali, la protesta dei sindacati. Scuola e Covid, per la dirigente scolastica Patrizia Pagano, la scuola realtà sicura, nessun commento sulle chiusure dei comuni. Turismo interno dalla regione, 100 mila euro a Caggiano, Polla, Sala Consilina e Sassano. Ben trovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura ampio spazio dedicato al tema scuola e Covid, il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, a seguito delle polemiche e della nota stampa della minoranza, chiarisce la posizione sull'attuale situazione venutasi a creare nel Vallo di Diano e a Sala Consilina, in particolare in merito alla scuola. Ricordando come l'amministrazione comunale ha adottato atti conseguenti alle decisioni degli organi superiori e delle norme primarie, non potendo entrare nel merito delle decisioni assunte per effetto delle stesse leggi, ha invitato la minoranza ad essere più costruttiva nell'atteggiamento, visto anche il periodo complicato, senza piuttosto cavalcare l'onda per le polemiche. Non manca inoltre anche un passaggio sulla questione screening sulla popolazione scolastica. Io non entro nemmeno nel merito delle scelte perché ho rispettato sia l'ordinanza di De Luca, sia l'impugnativa del governo che il conseguenziale provvedimento del TAR, perché credo che in uno Stato di diritto bisogna rispettare quelle che sono le norme e le leggi. Non capisco tutto il trambusso che si è creato dopo, tenuto conto che su 14 comuni, credo che solo 4 comuni abbiano adottato l'ordinanza di chiusura delle scure, da altri 10 no. Capisco perché è semplice e facile la strumentalizzazione che di 10 comuni che non abbiano chiuso i leoni da tastiera abbiano assaltato e aggredito solo il sindaco di Sala Consilina perché ci sono abituato. Però credo che chi amministra con razziocinio, con equilibrio, con competenza, con professionalità e soprattutto rimanendo freddo in determinati momenti, alla fine abbia ragione. Io uso il proverbio «il tempo è galantuomo». Tanto è vero che è arrivata una comunicazione del prefetto in cui, spiegando la situazione in termini anche molto tecnici, ha invitato i sindaci che hanno emesso l'ordinanza di chiusura a revocarlo perché ritenendola non conforme a quella che era una pronuncia emessa dal Tar. Quindi credo che adesso venga finalmente, ci si è liberati da ogni dubbio, da ogni polemica, da ogni strumentalizzazione e si è certamente chiarito che non solo il comportamento del sindaco di Sala, ma anche il comportamento di altri 9 sindaci del nostro territorio sia stato un comportamento che non abbia fatto nient'altro che obbedire a quello che era una ordinanza del Tar. Credo che un'amministratura prima di tutto debba rispettare le leggi e debba rispettare le sentenze. Per quanto riguarda gli screening siamo nella stessa situazione perché un tamponamento di massa diventa difficile. Chiarisco un altro punto, un tamponamento di massa per l'entrata a scuola che sarebbe anche fine a se stesso perché ci stiamo rendendo conto che Omicron è molto infettiva quindi tu oggi ti fai il tampone e domani potresti risultare positivo. Quindi questo screening dovrebbe essere fatto ogni 2-3 giorni ed è una cosa materialmente impossibile sia da un punto di vista organizzativo, gestionale sia da un punto di vista economico, sia per l'ASL ma anche soprattutto per i comuni se lo dovessero fare perché credo che a Sala Consilina parliamo di una popolazione studentesca di circa 2.000 unità che a 20 Euro un antigenico sarebbero 40.000 Euro che si dovrebbero poi ripetere ciclicamente. Quindi stiamo parlando di cifre anche di un certo spessore, di un certo lievo quindi credo che sia difficile sottoporre. Io credo che bisogna, a screening tutti, io credo che bisogna essere attenti, bisogna rispettare le norme, l'utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale. Io sto prestandomi ad andare anche ad un altro incontro sempre con i rappresentanti di tutti gli istituti superiori che sono a Sala Consilina, con la dirigente scolastica proprio per affrontare un'altra problematica che i ragazzi hanno messo sul tavolo, che non riguarda il sindaco, ma il sindaco si deve fare portavoce di quelli che sono anche gli interessi dei cittadini che sono sul proprio territorio. Una problematica che riguarda la DAD e vedremo stamattina, cercando con equilibrio, con il razzocino e con il dialogo con la dirigente scolastica, se si può trovare una soluzione per venire incontro a questi ragazzi che hanno tutta la voglia di rientrare in classe, però ci vogliono entrare con tutte le misure di sicurezza che possano garantire la propria salute. E l'intervista integrale al sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone andrà in onda al termine del nostro TG e poi sarà ascoltabile anche su tutti i nostri social network e sul nostro sito internet. Andiamo avanti, restiamo sempre in tema screening e scuola perché questa mattina sono rientrati regolarmente in classe per la didattica in presenza i ragazzi e bambini di tre comuni, ossia Polla, Monte San Giacomo e Montesano, che avevano disposto una giornata di chiusura per consentire gli screening su tutta la popolazione scolastica, anche ad Atena Lucana, che però non aveva disposto la chiusura delle scuole adeguandosi quindi alla legge nazionale, sono stati effettuati nel pomeriggio di ieri i test di verifica. Oltre 860 bambini e ragazzi sottoposti ai test in tutti e quattro i comuni, per un totale in questi quattro comuni di 11 bambini risultati positivi. Vediamo. I comuni di Polla, Atena Lucana, Monte San Giacomo e Montesano hanno effettuato nella giornata di ieri gli screening sulla popolazione scolastica con esito che ha consentito la regolare riapertura della scuola in tutta sicurezza. Sono in totale 862 i test di verifiche effettuati tra la popolazione scolastica nei quattro comuni che hanno deciso di effettuare le verifiche, per un totale di 11 positivi accertati. Tutti in classe quindi, anche nei quattro comuni che avevano deciso di rimandare per un solo giorno la regolare riapertura delle scuole come da sentenza del TAR che aveva disposto la sospensiva dell'ordinanza regionale emessa il 7 gennaio scorso. Nel dettaglio a Polla l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Loviso ha deciso di rimandare la regolare riapertura della scuola di un giorno al fine di effettuare i test di controllo per la ricerca di eventuali casi di positività al Covid. Un'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale presso il centro sociale Don Bosco grazie alle farmacie del territorio che hanno potuto effettuare i test antigenici su tutti gli alunni. Su una popolazione scolastica di circa 360 persone sono 325 il numero dei test effettuati di cui solo 8 sono risultati positivi mentre restanti 317 negativi consentendo così la regolare riapertura della scuola e l'attivazione della didattica in presenza. Tutti negativi invece i test effettuati ad Atena Lucana nel pomeriggio di ieri. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Vertucci pur con la regolare apertura della scuola già nella giornata di ieri e senza disporre alcuno stop alle elezioni in presenza come da norma primaria e da disposizioni del TAR che ha ritenuto non motivabile un ricorso alla didattica a distanza per la chiara e dettagliata regolamentazione prevista con la norma primaria delle azioni da porre in essere laddove si registri un caso Covid ha disposto l'effettuazione di screening gratuiti nel pomeriggio di ieri presso la sede della colomba soccorsi in modalità drive-in. Su 128 test effettuati non si sono registrati casi di positività al virus. Pertanto nessun caso Covid tra gli alunni delle scuole di Atena è stato accertato. Un solo positivo invece a Monte San Giacomo su 59 alunni tra medie ed elementari che si sono sottoposti al test su base volontaria. Una partecipazione comunque attiva ed alta di circa l'80%. Sono infatti 73 gli alunni che frequentano le scuole del comune guidato dalla sindaca Angela D'Alto che ha manifestato soddisfazione per la percentuale di bambini che hanno aderito all'iniziativa consentendo un rientro in classe sicuro. Infine sono due i casi di positività accertati a Montesano sulla Marcellana in seguito allo screening effettuato nella giornata di ieri su circa 350 tamponi effettuati. E restiamo in tema Covid perché la dirigente scolastica degli istituti comprensivi di Sassano e Sala Consiglina Viscigliette Patrizia Pagano commenta la decisione del Tar Campania che ha disposto alla ripresa delle attività didattiche in presenza per la preside. La decisione conferma quanto da lei ampiamente sostenuto ossia che la scuola è una realtà sicura. Vediamo. La sentenza del Tar che ieri ha colto l'istanza cautelare di alcuni genitori ha disposto la sospensione del provvedimento con cui la Regione Campania aveva di fatto interdetto le attività in presenza nelle scuole del primo ciclo. Da donna di scuola e anche coerentemente con la mia precedente dichiarazione con cui avevo illustrato il mio convincimento che la scuola è una realtà sicura, sottolineo che il rispetto delle regole, l'impegno e anche gli investimenti che lo Stato ha effettuato proprio per garantire la sicurezza della scuola durante le attività in presenza, ci rendono sereni, ma non meno responsabili o attenti, nel volere privilegiare la presenza dei ragazzi nelle scuole. L'aspetto sociale e relazionale, oltre che quello contenutistico dell'apprendimento, è fondamentale. Questa sentenza ci ha quindi piacevolmente raggiunto ieri pomeriggio e come preside delle mie scuole ho comunicato alle famiglie e al personale la riapertura immediata. Mi sono confrontata con lo staff per quello che riguarda l'organizzazione del servizio e insieme abbiamo condiviso l'opportunità di non aprire la mensa e quindi di non far andare in vigore già da oggi il tempo pieno, almeno per questi primi giorni. Ma questo non solo per confrontarci noi stessi come realtà scolastica e vedere il numero dei docenti scolastici e dei collaboratori scolastici su cui veramente si poteva contare per evitare disturbi alle famiglie e agli alunni stessi, ma anche perché siamo consapevoli che l'attività come quella del servizio mensa prevede un'organizzazione complessa che non può improvvisarsi dall'oggi al domani e quindi ci siamo presi questi primi giorni per consentire la migliore organizzazione del servizio mensa possibile. Da lunedì avremo poi il tempo pieno. Intanto abbiamo ripreso l'attività didattica in presenza con la gioia di tutto il personale e delle famiglie. A livello comunale ci sono state comunque delle ordinanze che hanno, per quello che riguarda la competenza dei comuni, previsto altri provvedimenti tra i quali eventuali screening che non sono obbligatori i tamponi per verificare la situazione dei positivi tra gli alunni, però sono sicuramente un modo per iniziare in serenità le attività in presenza. La sospensione delle attività di oggi, che da qualche comune è stata disposta per oggi solo, limitatamente oggi o per più giorni, rientra in diverse competenze istituzionali che non sta a me commentare. Per quello che riguarda la situazione scolastica, io come dirigente è limitatamente alle scuole che mi onoro di rappresentare, non posso che essere felice della sentenza del TAR e anche del provvedimento con cui sempre ieri in tarda serata l'ufficio scolastico regionale ha fatto su le motivazioni della sentenza del TAR e ha previsto la riapertura immediata delle attività didattiche in presenza. Il TAR e l'ufficio scolastico regionale hanno di fatto mostrato la stessa fiducia che ho io nella realtà scolastica. D'altra parte per quello che riguarda il bilanciamento tra il diritto alla salute e il diritto all'istruzione, c'è stata una dettagliata regolamentazione da parte della norma primaria che permette di lavorare con serenità e affrontare le varie situazioni che dovessero presentarsi. Restiamo in tema Covid, andiamo a Monte San Giacomo per parlare della questione tamponi e verifiche a seguito prolungato isolamento. La sindaca di Monte San Giacomo Angela D'Alto scrive a Regione e ASL per chiedere l'adozione di misure idonee a rimuovere il disagio con una lettera inviata al presidente della Regione Vincenzo De Luca, al direttore generale dell'ASL di Salerno Mario Iervolino e per conoscenza al consigliere regionale Corrado Matera, la prima cittadina ricordando come l'aumento dei casi di positività si sta registrando in maniera esponenziale soprattutto in questi giorni in tutto il territorio nazionale, evidenzia come coloro che sono risultati positivi non avendo alcun modo per effettuare tamponi di verifica, sono costretti a lunghe attese in quanto le strutture competenti, vista la mole di lavoro, fanno registrare un'oggettiva difficoltà ad effettuare i tamponi di controllo in tempi ragionevoli e sopperire così alle richieste. Una situazione che per Angela D'Alto genera un grave disagio dato che diventa difficile per le persone poste in isolamento accertare la loro negativizzazione. Nella stragrande maggioranza dei casi, peraltro sottolinea la sindaca, si tratta di soggetti asintomatici da sempre o almeno da dieci giorni. Da qui la richiesta della prima cittadina Angela D'Alto che invita i destinatari della missiva ad adoperarsi per consentire che anche farmacie, laboratori privati e medici di base possano effettuare tamponi antigenici di verifica in modo da liberare i pazienti costretti ad un isolamento per tempi prolungati. Andiamo avanti. La decisione della Regione Campania di sospendere le attività assistenziali causa Covid ha scatenato la protesta dei sindacati. Vediamo. La sospensione delle attività assistenziali nelle strutture pubbliche provocherà effetti disastrosi sulla fondamentale attività di prevenzione sia primaria che secondaria, come evidenziano i dati della precedente sospensione avvenuta a marzo del 2020, a lanciare l'allarme la CGL regionale in merito alla decisione dell'unità di crisi di sospendere i ricoveri programmati e le attività ambulatoriali non urgenti, chiedendo un incontro urgente con il Presidente dell'Aggiunta regionale Vincenzo De Luca. Difatti l'unità di crisi della Regione Campania, a fronte dell'andamento della fase pandemica, che regisse un incremento dell'indice RT e dell'incidenza dei casi positivi per 100.000 abitanti, è in considerazione dell'affluenza dei pazienti Covid e dei pazienti con altre patologie nelle strutture ospedaliere che sta determinando difficoltà nella risposta assistenziale, ha emanato una nota che sospende temporaneamente le attività assistenziali di elezione e di specialistica ambulatoriale affardata dal 10 gennaio 2022 presso tutte le strutture sanitarie pubbliche della Regione, ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici, oncoematologici, per patologie ostetriche, per trapianti e per prestazioni salvavita. Parliamo ora di vaccini perché in merito è intervenuto il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, le lunghe file agli hub, scrive che in alcuni territori funzionano solo uno o due giorni a settimana, le dosi insufficienti, la piattaforma sulla quale iscriversi che spesso risulta inaccessibile, la scarsa informazione in particolare ai soggetti fragili e per la fascia di età 5-12 anni sono alcune delle criticità segnalate da amministratori, associazioni e cittadini. Non possiamo consentirci di servizi, continua disinformazione e di conseguenza ritardi nelle vaccinazioni, né deve passare il principio che per effettuare il vaccino bisogna rivolgersi al politico di turno. Ritengo opportuno valutare, ha precisato, l'incremento degli hub vaccinali e soprattutto fare in modo che siano attivi tutti i giorni. Inoltre sarebbe auspicabile un maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle farmacie. Per la fascia di età dai 5-12 anni, continua, sarebbe auspicabile che le scuole stesse diventassero hub vaccinali. Ho rappresentato tali criticità e proposte al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che insieme ai direttori generali e alla direzione generale per la tutela della salute sono costantemente impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid. E andiamo avanti, cambiamo argomento. A sala Consilina potrebbe a breve avvenire una ridistribuzione delle deleghe tra la maggioranza. Nei giorni scorsi Francesco Spinelli, assessore alla cultura le politiche giovanili, ha rimesso nelle mani del sindaco Cavallone le sue deleghe. Secondo quanto emerge, pare che la decisione sia dettata dall'impossibilità per il giovane assessore di svolgere in maniera attiva e continuativa il suo impegno istituzionale per la sua attività lavorativa che lo terrebbe impegnato per gran parte della giornata. Una decisione assunta appare anche per motivi personali. Il sindaco Francesco Cavallone, nel manifestare apprezzamento per la decisione forte assunta dal giovane assessore, dato che non tutti sarebbero stati disposti a lasciare un incarico da assessore, ha annunciato l'intenzione di effettuare una ridistribuzione delle deleghe tra tutti i componenti della sua maggioranza. Andiamo avanti, la cronaca, rinvenuto un cadavere in un uliveto ad Albanella, si presume si tratti del cinquantenne Peppino Gaudiano, scomparso circa un mese fa. La Salma si trova all'ospedale di Eboli in attesa di autopsia per capirne di più. Al momento sembra esclusa l'ipotesi del suicidio. Vediamo. Conclusi gli accertamenti effettuati dai carabinieri del SIS di Salerno, in una campagna sita nei pressi della strada provinciale 11, a pochi passi dal centro cittadino di Albanella, dove è stata rinvenuta probabilmente la salma del cinquantenne Gaudiano Peppino e di cui si erano perse le tracce un mese fa. Sul posto anche il capitano della compagnia dei carabinieri di Agropoli, Fabio Lagarello, il medico legale e il magistrato di turno della procura salernitana. Da quanto è emerso dalle prime indiscrezioni, il corpo non presenterebbe segni di violenza. Saranno le indagini e gli accertamenti sulla salma a chiarire la causa della morte dell'uomo. Nelle immediate vicinanze non sono stati rinvenuti segni che possa trattarsi di un suicidio. Non si esclude nessuna ipotesi sulle cause che hanno determinato la morte dell'uomo. Come non si conosce ancora, l'effettiva identità del cadavere rinvenuto nel terreno. Sebbene il timore è che possa trattarsi proprio di Peppino Gaudiano, visto anche il tipo di corporatura, il 51enne è stato visto l'ultima volta lo scorso 12 dicembre. Il luogo del rinvenimento si trova a poca distanza dalla sua abitazione, circa 650 metri, che insiste proprio sulla strada provinciale 11 in via Roma. Se si trattasse proprio di Gaudiano, resta comunque un giallo sul perché si trovasse in quel terreno. Fino a quando non sarà effettuato l'esame autoptico, non è possibile capire le cause del decesso e soprattutto se si tratta effettivamente del 51enne scomparso circa un mese fa. La notizia ha creato molto sconcerto nella comunità albanellese. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che a rinvenire il corpo senza vita sia stato un uomo che avrebbe dovuto effettuare dei lavori di potatura proprio all'interno di quel terreno. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg, una importante opportunità professionale per decine di giovani professionisti offerta dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni. È stato approvato il primo elenco parziale di professionisti che hanno inviato la propria candidatura alla shortlist per l'affidamento di incarichi professionali relativi alla progettazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da altre misure nazionali ed europee. Contestualmente si è provveduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande con scadenza il 28 febbraio da redigere in modalità online sul sito www.pianosociales10.it dove sono reperibili anche tutti i requisiti necessari per poter chiedere l'iscrizione alla shortlist. Al momento sono ben 54 i giovani professionisti inseriti in elenco diversi non residenti del comprensorio del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. Sono ben 15 le sezioni di riferimento a cui candidarsi e alle quali il Consorzio attingerà per servirsi di professionisti a cui affidare le progettazioni da presentare ai bandi relativi al PNRR. Andiamo avanti. Turismo interno, destagionalizzazione, scusate, il turismo del turismo salernitano è questo l'obiettivo della regione Campania che ha messo a disposizione dei piccoli centri diversi milioni di euro, finanziati progetti per i comuni di Caggiano, Polla, Sala Consilina e Sassano. Vediamo. Destagionalizzare il turismo è l'obiettivo della regione Campania che ha messo a disposizione dei piccoli centri diversi milioni di euro. Sono nove e di questi due milioni e mezzo saranno spesi nel salernitano divisi tra 26 comuni. Lo si apprende dal BURC su cui è stata pubblicata la graduatoria relativa ai fondi POC, linea strategica, rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura, a favore dei percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici per il periodo che va da ottobre 2021 a dicembre 2022. Una chance alla campagna interna e più profonda che vuole giocarsi la partita del turismo in periodi diversi da quello estivo. Sono stati finanziati i progetti a Caggiano, Polla, Sala Consilina, Sassano. Tutti riceveranno 100 mila euro per le proposte che hanno presentato. A Caggiano per la quinta edizione di Alan Lomax, Viaggio nelle terre delle mille voci. A Polla per la 36esima edizione di Un Paese Antico che guarda il futuro, Festival Internazionale del Folclore, rassegna musicale della Zampogna e Ciaramella. A Sala Consilina per l'itinerario di religioni e gusti. A Sassano per la 23esima edizione della Valle delle Orchidee. C'è poi il progetto di Maiori, la magia degli elementi itinerari tra luce, acqua e artigianato locale, che vede coinvolti anche i comuni di Padula e Montesano sulla Marcellana. Nel Vallo di Diano sono 9 i comuni ricicloni che superano la percentuale del 65% e rientrano nel dossier dei comuni ricicloni di Legambiente Campania. Vediamo. Anche quest'anno Legambiente Campania ha stilato il dossier dei comuni ricicloni 2021. L'iniziativa premia le comunità locali, gli amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. Raccolte differenziate avviate al riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata. Nel Vallo di Diano sono diversi i paesi che hanno ricevuto il premio di comune riciclone per aver raggiunto un risultato di raccolta differenziata superiore al 65% per l'anno 2021. Si tratta di Monte San Giacomo con una percentuale di raccolta differenziata del 78%, Sant'Arsegno con il 76,4% di differenziata, Padula con il 74,6%, ci sono poi i comuni di Casalbuono con il 68,9% di differenziata, Buonabitacolo con il 67,8%, Sassano con la percentuale di raccolta differenziata del 67,6%, Montesano sulla Marcellana con il 66,5%, Teggiano con il 65,9% e il comune di Polla con la percentuale di 65,7%. Nell'elenco figurano anche diversi comuni del Tanagro e degli Alburni, tra cui Auletta, Caggiano, Ottati e Piaggine, molti paesi premiati anche nel Cilento, a cui va il primo posto in campagna. C'è morigerati con una percentuale di differenziata del 100%, nato nel 1994, quello dei comuni ricicloni, e un appuntamento consolidato, a cui aderisce un numero sempre maggiore di comuni, che vedono nell'iniziativa di Lega Ambiente un importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti per avviare e consolidare la raccolta differenziata e più in generale un sistema integrato di gestione dei propri rifiuti. Passiamo ora al calcio per il prossimo match casalingo della Salernitana. Gli Ultragranata non saranno presenti per protesta verso le nuove normative anti-Covid. I prossimi due turni di massima serie prevederanno per gli impianti una capienza limitata ai 5.000 spettatori. Per Salernitana-Lazio sarà aperto solo il settore inferiore della curva sud, con una disponibilità di 2.000 tagliandi. Proprio gli Ultra della Siberiano hanno comunicato via social la loro assenza fin quando le normative non cambieranno. Gli Ultra della curva sud, considerate le ultime determinazioni assunte dagli organi competenti, che non consentono di poter vivere la curva secondo il nostro modo di essere, decidono di non entrare allo stadio. Il nostro è solo un sofferto a rivederci, in attesa del ripristino delle precedenti condizioni. Un'assenza quindi quella della Torsida Granata, che farà il paio con quella della frangia più calda del tifo bianco celeste, essendo vietata la trasferta per gli ospiti. E con questo servizio è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.